Il presidente Biden ha convocato per il 9 maggio i leader di Camera e Senato per discutere del tetto del debito dopo l'allarme lanciato dal segretario al tesoro Yellen, secondo cui i conti federali rischiano la bancarutta il 1 giugno. Il governo statunitense ha raggiunto il limite di debito di 32 mila miliardi di dollari a gennaio, tanto che il tesoro ha dovuto impiegare misure straordinarie per riuscire a saldare i conti. E mentre il tesoro chiede al Congresso di intervenire, si attendono i pagamenti delle tasse che consentirebbero al governo di effettuare i pagamenti fino alla fine di luglio. Grazie